Signori ce l'abbiamo fatta Comunque ragazzi voi mi avete detto la roba dei monopattini mi sono messa E' lei Cioè è un tizio che mi ha fissato proprio male Ce l'abbiamo fatta ragazzi Siamo riusciti a Vabbè forse stavo coglionando con la mano alzata Eccola lì Stavo anche fissarmi male Il nostro esperimento è riuscito Siamo riusciti a farci salutare in live Raga situazionismo è riuscito Io mi vado a vedere nella live nella telecamera Che grande Che grande Grazie grazie mille Grazie mille Adesso vuole vedere Adesso sta lì tipo la travezza Perché sicuramente apre il link Grazie mille